Come sta il paziente? No, dammi i guanti, lo stiamo perdendo Taglierino, taglierino, veloce No, 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 così non va, non va Gira vite, gira vite, gira vite No, no, ce la facciamo, non ce la facciamo Ammazza il zanzare, ammazza il zanzare Subito Dai, con questo Dai, cazzo, dai Porca roia Ma sai che secondo me bastava solo un po' di colla Colla? Ma va, per culo Ci siamo, ragazzi, questo è Sargeon, Sargeon, come si dice? Sargeon Sargeon Simulator 2013 E niente, questo è un gioco d'abilità che come potete vedere Coinvolge ben due mani A-A-V-E-E-R Ok, abbiamo deciso che io sarò Tu i mani sinistre coinvolge Che io sarò la mano Sì Quindi io controllerò le dita della mano e tu controlli la... Il mouse Ok Quindi, ragazzi, è ancora più difficile, giocheremo in due Cosa si deve fare in questo Sargeon Simulator? Allora, bisogna operare e trapiantare un cuore Come tutti sanno, si fa in modo... Allora, vedete, io già... Ok, allora io premendo il tasto sinistro mi abbassa Ti do l'opportunità di togliere Ok, bravo, bravo Ok, prima... Vaffanculo, dai, valla Ok Prima cosa... Ok, con il destro riesco a ruotare la nostra mano Anche in questo senso Uh, che figo Bene, 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 bene Ok Rota in su, rota in su Rota in su Ah, tutti i nostri iscritti Ok Allora, che dobbiamo fare qua? Dov'è il cuore? Credo... Qui c'è il cuore Cazzo, questo è il cuore che dobbiamo trapiantare Ok, però lascio là perché adesso al momento non c'è Stacchiamogli le ossa Sì, allora... Oh, ci sono dei martelli Io credo che sia più indicata questa Aspetta, aspetta, piano, piano Ah Presa? Eh? Ok, mamma mia Adesso andiamo... Piano, piano, piano perché abbiamo il blood level Ok Ah Sì, zitto Ok, ok Oh, 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 stai a massacrare i polmoni Ma non è colpa mia, eh Ah, ecco Ah, piano, piano, ok, ci siamo Ti sta succedendo qualcosa? Senti, lascia, lascia, lascia la sega Prendiamo il martello perché dobbiamo rompere le ossicine Aspetta, va bene Ecco, ecco Vai Prendi il martello Naggia la malosca Prendi il martello Ok, ok, ci siamo Ci siamo? Ok, no, ho preso il bistro Le mani di merda Dai, dai Forza Dai, va là Ma perché lo prendi? Così si deve prendere Ma non è uno stuzzicadenti, porca vacca Adesso spacca tutto, vai Non credo che si operi in questo modo, sai? Ma io... Oh, perfetto Ok Ok, molla tu Puliamo Prendi il polmone Aspetta No, no Perché lo devi buttare? Non ce ne frega È un giro pianto di cuore Ok Ma no, come vuoi respirare? Dai, su, vai là Ok, l'ho preso L'ho preso Lo prendo Ok, ci siamo Dobbiamo ripulire prima da queste osse Perché mi si è gonfiato un dito? No, dai Prendi Perché ci siamo dati il martello Oddio, quanto siamo impediti Come la merda Ok, l'ho preso, l'ho preso Allora, no Ok È come le macchinette alle giostre Ok, ok Qua si deve fare tutto col pollice e l'indice È inutile che usi la... No, no, le altre dita servono Per esempio a fare pulizia di queste schifezze Fermo, fermo Voglio pulire Perché se no ci finiscono nel cadavere Già lo do cadavere, capito? La radio, la radio Perché, oh Secondo te Ok Secondo te non respira Se respira bene con un polmone solo Dai Il polmone è collassato Dai, prendilo Ma dai, usa le altre dita Oh, bello Ma perché lo vuoi buttare? Almeno un polmone lasciamo Ma sto poveraccio c'ha il cuore che non fa I polmone sono perfetti Vabbè, puliamo la cassa toracica Ok Hai appena magnetizzato l'indice Dai, dai Ok No Che dici? Si può estirpare il cuore? No, no Devi usare le altre dita Dai, dai Tutte le dita Ho preso tutto C'è quel Oh, ma sei lento Quello sta a morire 3 litri di sangue Vai Dai Non credevo che avremmo preso Dai, dai, dai Dai Pulisci, pulisci Prendi qualcosa Che cazzo è quella? La orta La orta Prendi la orta e esci fuori Dai Ok, ci sono L'ho preso Chi è che sbatte la orta Senti, secondo me Devi usare il pollice Senti, non ce ne frega niente delle ossa Facciamogli st'operazione Prendi una sega Prendi il bisturi Ok, ci sono Piano, piano, piano Devi recidere piano Ma perché? Perché hai le mani di merda Ma io non ho lasciato Ok Ok, non vedo un cazzo Guarda, guarda Non so come sto operando Ragazzi, bisogna recidere Piano, piano Ok, l'hai recita Non so come hai fatto Ma Sono stato bravo Aspetta, però Bisogna reciderne altre Vai, prendilo di nuovo Eh, sì A tipo coltello Vai, vai Oh, perfetto ragazzi Dai, dai Ci sta quella Guardate quanto sono No, no Il cuore No, sul cuore Oddio, oddio Lo ammazziamo Ma perché lasci? Non lo lascio E quella è la cosa più bella Dai che sta per morire Senti, quello lo lasciamo La prendiamo un'altra Ma no Ma poi la gente si ricorda Che c'è una roba dentro Ragazzi Noi abbiamo studiato medicina Eh, sì, sì Aspetta, aspetta Mi sa che gli ho Ok, ok, ci sei, ci sei Perfetto, lascia tutto Lascia tutto Prendi, prendi il cuore Prendi il cuore malato Guarda, guarda È viola il cuore Ok, preso, preso Ok, vabbè Butta fuori l'osso Vai, guarda Sta per crepare Guarda Lascia Sta senza cuore Lascia, no Ah Sta senza cuore Ok, ok Prendi il cuore Calma, calma L'ho preso, l'ho preso Hai preso? Sì Allora, questo non va bene Perché è malato Via Dobbiamo prendere il cuore vero Ok, lo prendo No, occhio Ok, se casca Siamo nella merda Ok, lascialo Cazzo Rating a più più Prima volta che giochiamo Ragazzi Comunque siamo stati fenomenali Questo gioco È un gioco molto istruttivo Molto bello Non ci si mette molto A trapiantare un cuore Cioè lo devi rimollare Lì, poi si riattacca da solo Sti cardiochirurghi Prendono un sacco di soldi Per fare una cosa No, vabbè Comunque ragazzi Provatelo Perché è veramente divertente E dice Sono sicuro che è vivo Va bene per me Sono sicuro che è vivo E in effetti Ok, bello 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 Voi riuscirete a sfruttare un po' come un nuovo accessorio Da impostare voi No, per le vostre ragazze Ok Fatto questo diciamo Augurerà una sorta di barra Non, per le vostre lagre Yeah No, per le vostre ragazze